Credo che oggi c'è da fare i complimenti al nostro avversario perché ha dimostrato di avere delle grandissime qualità, sia a livello fisico che a livello tecnico. E ha portato a casa un risultato, credo, meritato. Quando perdiamo, tutti quanti siamo dentro la sconfitta e tutti quanti avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Abbiamo voglia di iniziarlo a fare da domani perché sicuramente ci vogliamo riprendere da questa prestazione. Fermo restando, ripeto, che siamo consapevoli di aver incontrato una squadra che ci ha dimostrato che abbiamo ancora tanto da poter migliorare. Oggi credo sia stata una partita difficile contro un avversario forte in cui avevamo tenuto testa nel primo tempo perché non avevamo subito grandissime occasioni senza neanche crearle. Nella ripresa aveva avuto lo stesso andazzo alla partita, poi poco prima del gol avevamo messo la testa fuori, avevamo provato a fare qualche azione. E forse questo c'era un pizzichino illuso, siamo stati puniti da un gol su un'azione di contropiede. E poi abbiamo avuto una reazione vehemente, avremmo potuto rimettere in piedi il risultato, forse lo avremmo anche meritato in quei dieci minuti, ma ci siamo scoperti un po' troppo e abbiamo lasciato tanto campo a un avversario che quando a campo diventa devastante e anche oggi è riuscito a dimostrarlo. Beh, parlarne oggi del campo non avrebbe tanto senso, sicuramente abbiamo tutti quanti gli occhi per vedere in che condizioni è. Oggi sicuramente questo avversario ci ha fatto fare tanta fatica, il risultato secondo me è anche troppo pesante rispetto alla prestazione che c'è stata in campo, perché nel momento in cui l'avremmo potuto raddrizzare abbiamo preso il secondo gol e poco dopo con un gran tiro da fuori abbiamo preso il terzo. Sicuramente è un risultato pesante, ma credo è un risultato meritato da un avversario che ha dimostrato oggi di avere qualità molto molto grandi. Ci hanno fatto rendere conto che in questo momento dobbiamo ancora fare tanto per arrivare alle squadre che sono in testa, anche se il punteggio si dice che siamo molto vicini, noi abbiamo ancora tanto da lavorare per provare a continuare a restare dove siamo in questo momento.